Ciao, ma funziona un orto lang? Sì, stiamo giocando in LAM, c'è ragazzi, dopo settimane di cavi, di lavoro, di roba, funziona! Eh, allora, questa è arte stiliosa, imparatela a me! Guarda anche l'effetto 3D! Sì, è molto inquietante! Sì, stiamo giocando! Eh, cosa dicevi? Che ho trovato delle macchinette fotografiche decenti, che girano intorno ai 1000 e ai 3000 euro. Marca? Canon, tutte quelle... Dai, sorridi un po'! Ho finito il mio lavoro d'artista, ragazzi! Trovo una bomber! Ho finito il mio lavoro! Sì, stiamo giocando un line? Voi piaci? Grazie a tutti.